Siamo qua con Dorotea Wierer. Allora Dorotea, questo è l'inizio di questa stagione invernale piena di appuntamenti tra Coppa del Mondo a fine novembre, che partirà in Svezia e chiaramente le Olimpiadi. Tu recentemente hai detto di non essere totalmente soddisfatta del tuo stato di forma, nonostante comunque i risultati estivi con gli ski roll siano stati ottimi. Come ti senti all'inizio di questa stagione? Beh, è sempre difficile dirlo perché secondo me l'estate devi sempre prenderlo con le pinze. Chi si allena si massacra e non tira mai indietro. Chi magari vuole essere più in forma l'estate e quindi negli allenamenti sta un po' più attento, quindi automaticamente più in forma anche l'estate. Però so che ho lavorato molto bene, adesso devo ancora smaltire un po' il lavoro, però credo che se sto bene fisicamente dovrebbe essere un bel inverno. Poi si sa che la concorrenza non dorme, che se io sono in forma e gli altri sono più forti di me, pazienza. Bisogna accettarlo nella vita e nello sportivo. Certo, certo.